Grazie a tutti. E' pronto il comune di San Marco? Pronto? Vediamo un attimino... Stiamo ascoltando di... Un attimino... Allora, vediamo un attimino se riusciamo ad avere qualcuno collegato... Vediamo se qualcuno ci risponde da San Marco... O almeno speriamo... Stiamo cercando di metterci in contatto con il comune di San Marco e Lamis per avere... Almeno di parlare con il sindaco Angelo Cera... Per capire un po' com'è la situazione dopo diversi giorni di maltempo... Vediamo un attimino se riusciamo... Allora, vediamo un attimino se riusciamo... Vediamo se riusciamo a parlare con qualcuno al municipio... Magari riusciamo ad avere qualche novità... E' pronto? E' pronto? Parlo con il comune di San Marco? Eh... Buongiorno, sono Mimmo Siena della notiziaweb.it... Sto chiamando da Cerignola... E' possibile parlare con il sindaco Cera? Eh, grazie... Vediamo un attimino se riusciamo a collegarci... E' pronto? E' pronto? Parlo con il comune di San Marco? Sì... E' buongiorno, sono Mimmo Siena della notiziaweb.it... Sto chiamando da Cerignola... E' possibile parlare con il sindaco Cera? Eh, in questo incanto non c'è... So che è a Mari... Ah, ecco... Quando lo possiamo trovare in sede? Ah... Ma mi trovo una domanda molto... Eh, lo so... Mi creda... Il nostro lavoro è anche questo... Volevamo sapere anche... Notizia sulla situazione a San Marco... So che c'è stato un violento non bifragio... Che ha causato non poche difficoltà... Certo... Certo... Non so adesso con chi potrebbe... Il sindaco di certo no... E non so se nel pomeriggio verrà... Ah, ho capito... Domani sarebbe reperibile in sede? Il comune è chiuso... Ma è probabile che il sindaco possa essere in sede... Ah, ecco... Quindi è possibile che domani il sindaco può essere in sede... In sede per... Al comune probabilmente? Sì, probabilmente potrebbe essere in sede... Però io... Non so che dirvi adesso... Voglio mettere di contatto... Eh... E volevo... Comunque visto che lei è del vostro... Volevamo capire un po' come la situazione lì a San Marco... È tornata la normalità o c'è qualcosa ancora di problematico che le risulti? C'è ancora qualcosa di problematico... Ancora non ritorno a sostenere la normalità... Con tutti i buoni lavori che hanno fatto sede amministratori... Che operatori della protezione civile... In tutti i modi... La normalità ancora non ritorno... Perché in questa faccenda del primo tempo un'altra volta... Ci sono due zone a San Marco che c'è rischio di trada... Quindi diciamo che comunque il lavoro è andato bene... Nonostante le difficoltà... Vero? Sì, sì, sì... Il lavoro è andato bene... Sì... Hanno lavorato tutti... Quelli che è giusta e giusta... Sia amministratori che operatori... Tutti quanti... Hanno lavorato bene tutti quanti... Ho capito... Va bene... Allora cercheremo domani di parlare anche direttamente con il sindaco... È stato gentilissimo... Grazie... Io... Se vuole le posso dare il numero fisso... Quello dell'ufficio che veste a lui... La strada del sindaco... Eh... Allora se mi aspetta un attimo... Prendo un attimo il block notice... E me lo segno... Può attendere cortesemente? E mi dico anche quella delle linee... Probabilmente che lui va sempre 20... Certo... 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 Allora mi dica il numero cortesemente... Allora... Il suo ufficio è 0821... Sì... 813226... Allora 813226... Ok... Sì... Sembra 0821... 83... 39... 75... Ok... Allora... 83... 39... 75... 75... Perfetto... È stato gentilissimo... La ringrazio... Prego... Buona giornata... A presto... Grazie... Benissimo... Comunque... Dalla voce di questo... Dipendente comunale... A San Marco Illamis... Dunque... Che la situazione... È ancora problematica... Ma comunque... Naturalmente... Torneremo... A parlarne di questo... Anche direttamente con... Il sindaco di San Marco Illamis... Nelle prossime ore... F lutti... One你是 parentale...